Buongiorno Milano da Abbraccio Marino. Siamo passati dalla fase 1 alla fase 2. Siamo passati dalla tragedia della fase 1, momento in cui abbiamo imparato termini come triage, respiratori, terapie intensive, a una fase 2 che sarà certamente molto molto difficile e la crisi economico-sociale sta montando, per cui il dibattito si sporterà su purtroppo disoccupazione, aiuti del governo, alle imprese e alla famiglia, tensioni sociali. Ecco, la mia classe, la mia categoria, quella dei politici, è chiamata a una prova della verità, a una prova delle sue capacità immediate. Prima dovevamo fare alcune cose, ma oggi è necessario essere rapidi e evitare troppe discussioni, cosa che purtroppo un po' stiamo vedendo, perché il Paese ha bisogno subito. Nella fase 2 dobbiamo rimanerci e dobbiamo meritarci di rimanere. Dal punto di vista sanitario dovremmo essere accorti, dovremmo porre attenzione. In tanti mi scrivono e mi hanno scritto soprattutto nel weekend, Sindaco, c'è troppa gente in giro, troppa gente in Corso Garibaldi, troppa gente al Parco Nord. Ora, io non so se c'è troppa gente, anche perché in teoria tutti il milione 400 mila milanesi possono essere in giro, fanno attività motoria. Il problema è che devono essere in giro rispettando una sola regola, e cioè indossare la mascherina e tenendo distanza dagli altri. E ieri, a proposito dell'arrivo di Silvia Romano, la regola non è stata rispettata, l'assembramento era impressionante. Ora non ci sono assembramenti di Serie A e assembramenti di Serie B. E forse mi sarebbe piaciuto vedere oggi un po' sui quotidiani anche una stigmatizzazione del comportamento di giornalisti e fotooperatori. Detto ciò, noi siamo una comunità e cerchiamo di stare uniti e cerchiamo di dare tutto il nostro contributo. In particolare parlo di Milano e a questo proposito voglio ringraziare un grande milanese, Giorgio Armani, Re Giorgio come lo chiamano in tanti. Ieri, in un momento quindi preciso e importante, ha annunciato che la prossima sfilata di Armani Privé verrà fatta a Milano, non più a Parisi, è sempre stata fatta a Parisi. Ecco, così si fa. Grazie Giorgio. E infine, oggi è la giornata mondiale dell'infermiere perché è, diciamo, la fondatrice dei sistemi moderni infermieristici Florence Nightingale è nata in questo giorno. Un grazie sentito a tutti gli infermieri. A domani.